Hi Charis, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sakuri, siamo sempre in quel di Bergen, oggi vi mostro il mercato del pesce, comunque tutto quello che di relativo c'è rispetto al pesce norvegese e non a Bergen. Noi avevamo ipotizzato di pranzare o cenare un giorno al mercato del pesce ma poi abbiamo rivisto in realtà per prepararci al viaggio un video del maestro Niccolò Balini, se lo conoscete sapete perché mi fido ciecamente dei suoi consigli rispetto a viaggi e cibo, se non lo conoscete può essere interessante per gli appassionati di viaggi, quindi non che lui abbia bisogno ovviamente della mia pubblicità ma veramente vi può interessare se non lo conoscete. Vi lascio qui sotto nell'info box il link al suo canale e magari anche al video che aveva fatto sul mercato del pesce di Bergen, così capite perché non ero convintissima di mangiarci. Questo edificio si chiama Fiskaturge ed è praticamente il mercato del pesce di Bergen, dentro ci sono diversi ristorantini, tutto un grandissimo open space e con diversi punti vendita di pesce. È esattamente dall'altro lato del fiordo rispetto al brigge. Ora entro in questo locale e vi faccio vedere un po' di pesce fresco. Si può sia comprarlo da portar via che anche farselo cucinare, cioè mangiare direttamente nel loro ristorante. Allora questo ragazzi è lutefisk, è tipo merluzzo macerato nella soda caustica, è un piatto prelibato norvegese natalizio, io l'ho assaggiato, ve lo sconsiglio. Steinbit, questo bellissimo signorino, cos'è lo Steinbit in italiano? Pesce lupo, torsk, semplicissimo merluzzo, chele di neve, e questa manuona lunga invece è il granchio reale, gli scampi più grossi che io abbia mai visto, una ragozza, questi sono i granchi, blowshell, sono le cozze. Ecco questo qui è il granchio reale, vivo, vediamo se si vede. Oh, che bello, è enorme. Ragazzi a me spiace un sacco quando li vedo vivi ma sono talmente buoni. Ragazzi queste sono le capi sante, famose, buonissime, mai mangiate così buone, ma hanno un prezzo assurdo, costano 89 corone al prezzo, 9 euro praticamente, da noi costano 15 corone al prezzo. Un po' altro che, qui ci sono dei scampettini che si chiamano, che si chiamano, i gamberetti. Fare il fong crab vogliamo? Eh sì, queste qua, però come facciamo qua? Ah non lo so. Guardate, che ben di Dio. Allora, quella lì è carne di balena, e dico carne perché la balena è carne, non pesce. Quello è salmone ovviamente, e poi c'è un sacco di pesce che non riesco a riconoscere, qualcosa sarà merluzzo sicuramente. Qui ci sono gli scampi enormi aperti. Qui ci sono diversi tipi di salmone, affumicato, con le erbette. Ma ci sono le aragoste, povere, quelle che le chiusano. Alla fine, presi dall'entusiasmo di tutto quel pesce, abbiamo deciso di fermarci a mangiare in uno dei ristoranti del Fiskaturgat. E giustamente, essendo al mercato del pesce, abbiamo pensato di mangiare la carne, ragazzi, ovviamente. Abbiamo preso un hamburger di carne di renna di Roros, che, ma che ve lo dico a fa. Ha un panino che è morbido e croccante allo stesso tempo, spettacolare. E poi ha queste fettine di barbabietola e cipolla rossa marinata. Mi sono spiaggiata sul divano in attesa che arrivi il mio turno per fare la doccia. Comunque, ragazzi, c'è l'hamburger di renna, meraviglioso. So che in un posto che fa prettamente pesce, avrei dovuto ordinare pesce. Ma io che cosa posso farci se il mio cuore appartiene alla carne? Ragazzi, uffa, io sono profondamente costernata per questo vlog, perché alla fine è stato un mega flop. Mi immaginavo già di farvi vedere chissà che cosa, il mercato del pesce, 10.000 bancarelli, tutto pesce fresco. Così stranissime mai viste, invece niente di tutto ciò. Avete visto letteralmente due pesci in croce buttati lì così e niente. E me che mangio un hamburger, scusate. Ci sono rimasta stramale. Prima di tutto perché ovviamente volevo vederlo io, c'era una cosa molto particolare. Avevo visto un po' di video in internet, quindi avevo alte aspettative. E poi anche perché comunque ci tenevo a farlo vedere a voi, perché era una cosa un po'... Cioè, insomma, Bergen è abbastanza famosa da quello che avevo sentito io per questa cosa. Quindi, vabbè, non fa niente. Abbiamo tutti imparato, io per la duecentesima volta, che quando si viaggia le cose non vanno sempre come programmato, anzi, per dirla tutta, quasi mai. Anche se uno si prepara per bene. Vabbè, pazienza. Se non altro avete visto qualche pesce un po' diverso, un po' particolare, cose di queste zone. Il king crab, ad esempio, non credo che sia normalissimo vederlo nelle nostre pescherie in Italia. Le capesante ci sono, però così grosse, fresche, di solito si trovano surgelate in Italia. Quindi, insomma, a meno che di non andare proprio in posti, insomma, un po' particolari. Però, normalmente, almeno io non le ho viste mai così. Le ho viste solamente in Norvegia. E quelle sono veramente buone, sono enormi. Quindi vi ripeto, se doveste venire in Norvegia, provatele. Ecco, magari girate un po', perché non so se avete notato che il prezzo comunque era abbastanza alto. Nel senso che lì, nel Fisk at Worker, praticamente una capasanta chiusa costava l'equivalente di 9 euro. Una capasanta aperta, 10 euro. Cioè, questo per fare da sport, ad esempio, se tutte le porti a casa chiuse ti costano 9 euro il pezzo. Se te la porti a casa già aperta da loro ti costano 10 euro il pezzo. Mangiarla lì, tipo, fatta sashimi da loro, quindi aperta, pulita e tagliata, 20 euro. Cioè, pazzi, nel senso, da noi una costa tipo 15 corone, cioè 1,50 euro, massimo 2 proprio. Vabbè, comunque, ovviamente qua si... Insomma, si trattano bene, evidentemente. E poi, vabbè, chiaramente è anche una cosa per turisti, quindi ovvio che i prezzi li evitino un attimo. Un'altra cosa interessante di questo vlog può essere che comunque avete visto che anche lì nel Fisk at Worker, anche se è prettamente riguardante il pesce, se dovesse andare con un gruppo di persone e uno non ha voglia di mangiare il pesce, 1, 2, 10 o 50, insomma, c'è anche qualcosina non di pesce. L'hamburger non era l'unica cosa, cioè, ovviamente, il 90% dei piatti sono a base di pesce, però c'è anche qualcosina non di pesce, quindi questa può essere una buona cosa. Sto cercando di trovare delle cose positive a questo vlog, che in realtà non ne ha, o meglio, non è assolutamente quello che avevo pianificato all'inizio, quindi mi dispiace veramente tanto, per cui... Vabbè, in realtà alla fine è stato un vlog in cui vi faccio vedere due pesciolini freschi, io che mangio l'hamburger e vi rimando ai video di qualcun altro, però vabbè, quantomeno sapete dove andare a vedere dei video sul mercato del pesce di burger, che non siano i miei, purtroppo. Purtroppo per me, dico, perché veramente lo voglio. Niente, quindi, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo flop di video. Alla prossima, ecco una lacrimuccia con l'amaro in bocca stavolta, che vi saluto, un bacione.